Sì, è una cosa che potrebbe essere utile ma è abbastanza situazionale in un po' delle partite ieri e sarebbe stato alquanto difficile se la linea di Slensoi è oltre la metà campo bersaglia diventa un po' difficile perché non è stato attaccato, quindi non sarebbe possibile per qualche parte probabilmente l'avrebbe dovuto fare proviamo di giocare davanti alla difesa e di stabilire la gioca Siamo in dieci tra gli argoletti classico, come si diceva una volta Sì, mi piace, mi piace, lo sono perfatto ed è quello che estricamente mi ha sempre dato risultati e mi fa divertire, mi fa piacere quello che faccio